Una delle mie attività preferite è mettere in ordine. Mi piace trovare per ogni cosa il suo posto, farlo in maniera intenzionale. L'ho fatto per tanto tempo come cura contro i momenti di rabbia, poi ho imparato che arrabbiarsi è inutile. Mi piace perché mentre lo faccio posso non pensare proprio a niente, oppure l'esatto contrario, posso pensare a tutto quello che voglio. Arriva il momento di liberare tutto, di togliere le cose di mezzo, il momento in cui l'unica cosa da fare è sbarazzarsi di ostacoli, frammenti, dettagli che intralciano, per lasciare spazio a ciò che deve arrivare, a ciò che non si conosce, alle idee, al confronto, alla creatività, all'insieme che è più della somma delle parti. È arrivato quel momento e io ho messo in ordine spostando tutto. Ora sono pronto. Grazie a tutti. With nothing but dreams In a world gone shallow In a world gone mean